E ti arriva la notifica, e ti arriva il messaggio, e ti arriva l'whatsapp, e ti arriva il vocale, e ti arriva la mail, e ti scrivo in chat su qualche diavolo di social, ma basta, 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 faccio più dei disturbatori. Caffettino estate Terza puntata del Caffettino estate, buon mercoledì 4 di agosto 2021, oggi veramente vorrei dedicare, visto che siamo a metà settimana, è quasi finita perché mercoledì si arriva a metà settimana, la puntata a quelli che mi rompono le scatole, che ti rompono le scatole, che ci rompono le scatole, perché così viviamo in quest'epoca dove ognuno può permettersi di disturbare chiunque, non c'è qualcuno, voglio dire che ti fa pagare un centesimo, una volta c'era questa provocazione, era un centesimo per mail, pensate quanto dovremmo pagare, però un disturbo, ecco, paga un disturbo, disturbo, oggi parliamo di disturbi. E non mi voglio soffermare solo ai disturbi digitali, cioè ai disturbi appunto online, remoti, ibridi, perché sono quei disturbi che, adesso la dico semplice, amici del Caffettino estivo e amici dell'altro Caffettino, tra l'altro tra parentesi, state ascoltando questo podcast è perché questi 20 giorni facciamo questi esperimenti, qua sulla spiaggia tranquilli, senza rotture di scatole e senza disturbatori, perché quelli disturbi digitali, quelli appunto online, noi possiamo in qualche maniera spegnerli, o perlomeno avremmo la possibilità di spegnerli se non lavorassimo con il computer, con lo smartphone, con l'elettricità, con qualsiasi cosa, internet, collegamenti, mettiamola così. Però abbiamo, diciamo così, l'illusione di poterlo fare, invece i disturbi fisici, cioè la persona che ti suona il campanello, che ti blocca in un evento, ti blocca da qualche parte, insomma è impossibile. Per esempio il collega, il collega che hai di fianco, speriamo di ritornare presto tutti in ufficio e vi dicendo, il collega è un berro un piscatole, cioè quando ti tocca, quando ti chiedi di venire nella macchinetta del caffè, quando ti dice ci troviamo per un aperitivo, ti devo parlare, magari ti vuole parlare della sua vita, bene, è un disturbatore. La tensione in famiglia, per esempio quando torni a casa e c'è qualcuno che ti disturba, insomma l'essere umano è un disturbato e un disturbatore a sua volta di default, non può, non può, non può, non può fermarsi, non può assolutamente dire no ragazzi io rimango nel mio, io mi fermo, io devo disturbare, sono un essere umano e disturbo. Il problema reale si pone quando il disturbo fisico diventa, si potenzia con quelli che sanno utilizzare il digitale o non lo sanno utilizzare, insomma se siete chiaramente un freelance o siete un imprenditore avrete magari qualche collega, magari pochissimo che è un disturbatore dei vostri clienti, cioè che li sta addosso, al contrario insomma accade quando un vostro magari cliente non è educato nel disturbo, no? Cioè magari vi scrive un whatsapp, poi non rispondete, vi manda un vocale, poi non rispondete, vi cerca di chiamare sul cellulare, non rispondete, chiama in ufficio, non rispondete, vi manda una mail dicendovi che vi ha chiamato il messaggio, non rispondete, beh ci sarà un motivo perché uno non risponde, ci avrà anche i cavoli suoi da fare, quindi secondo me noi dovremmo anche in qualche maniera educarci a gestire il disturbo. Non so che sembra una cosa brutta da dire perché in qualche maniera dovremmo cacciare via i disturbatori, ma siccome noi esseri umani siamo disturbatori rischeremmo di rimanere da soli, ecco, per non essere disturbati e quindi bisogna saper gestire i disturbatori. Poi a un certo punto qualcuno mi suona il campanello se mi vuole trovare. Insomma, dobbiamo in qualche maniera, e oggi appunto il caffettino estivo è rivolto a noi disturbatori che non ci rendiamo conto di esserlo, ma anche ai disturbatori che ci disturbano la nostra vita, di consapevolmente sapere che siamo disturbatori e dall'altra parte cominciare per noi, per le nostre gestioni, per i nostri lavori, di educare, educarci i passaggi. Per questo che i flussi di lavoro interni e la nostra organizzazione deve essere puntuale, deve essere precisa e dobbiamo avere dei momenti in cui, e arrivo alla parte utile di questo caffettino estate, in cui non dobbiamo essere disturbati. Per esempio, nella parte creativa, se io dovessi continuare a guardare l'ingatore delle mail che arriva, il whatsapp che mi scrivono, il telegram giustamente, perché vi rompo le scatole per scrivermi e poi non leggo se scrivete, se dovessi guardare tutto questo, mentre registro questo caffettino estate o mentre scrivo il testo per poter capire gli argomenti, vi dicendo, non ce la farei a registrare un podcast ogni giorno, ma siete matti, io mi devo prendere una mezz'ora, un'ora per montare se vogliamo. Comunque, quel momento sacro, quel momento sacro dovrebbe essere sacro per il caffettino, sacro per la riflessione, sacro per la parte creativa e azzarderei sacro anche per il lavoro, perché se noi abbiamo un momento in cui possiamo essere disturbati, sicuramente non è quello del lavoro. Quello del lavoro è un momento sacro, lavoro non parlo di operatività spiccia, diciamo delle cose di attività operative, parlo di lavoro creativo. Ecco, quel momento lì noi dobbiamo conoscerlo, riconoscerci e non farci disturbare, pena il fatto che non lavoriamo. Piuttosto esci a berti una birra, esci a fare shopping, esci a fare quello che vuoi, ma il momento giusto è quello del non disturbo per lavorare. Albert Einstein ci dice, chi dice che una cosa è impossibile non dovrebbe disturbare chi la sta facendo. Effettivamente tutte le cose che ci arrivano come disturbo ci tolgano dal nostro obiettivo finale, che è fare qualcosa di figo, che è fare qualcosa che ha impatto, che è fare qualcosa di reale. Questo è il bello, grazie Albert. Noi siamo dei guerrieri, per cui prendiamo il tuo suggerimento e non ci facciamo disturbare nel giusto momento. E questa è stata la terza puntata del Caffettino Estate, spero che vi stia piacendo questo formato, se è così mettete subito un like sui social per quanto mi riguarda, Mario Moroni e anche sul canale Telegram aggiungetevi. E poi se vi è piaciuta questa puntata in particolare mettete un commento se siete su Spreaker, fate follow su Spotify e lanciatemi una bella recensione su Apple Podcast. Noi come sempre ci sentiamo e ci vediamo sulla spiaggia nel prossimo Caffettino Estate. Ate!